Ecco, siamo all'ingresso del Museo dell'Istituto del Mondo Arabo, che è questo palazzo che si trova qui di fronte. Siamo nella zona, diciamo, quartiere latino, subito dopo il ponte di Sully che collega l'isola di St. Louis con il quartiere latino e poi dall'altra parte si va verso la zona della Bastiglia, per cui andiamo verso l'ingresso. Seguiamo il segno per l'entrata principale. Ecco, siamo all'ingresso, siamo qui alla biglietteria, ora dobbiamo andare al settimo piano, e ora dobbiamo andare verso l'entrata. Ecco, siamo all'interno, con queste immagini terminiamo questo video.